Le isole Faroe rappresentano l'unico Stato europeo ad aver registrato fino ad ora un'unica vittima per coronavirus. Indubbiamente gioca un ruolo strategico fondamentale l'adozione del piano predisposto dallo Stato per il contenimento dell'epidemia, ma non solo, pare che il segreto di questo successo straordinario sia rappresentato proprio dal salmone o meglio dal sistema di ricerca legato a questo animale. Il salmone rappresenta un bene prezioso per l'economia dell'arcipelago ed è proprio per questo che lo Stato predispone tutti gli strumenti opportuni per salvaguardare l'animale da virus che potrebbero risultare offensivi per la salute del salmone. Dunque sono stati predisposti dal proposito dei laboratori all'avanguardia che studiano i virus che risultano offensivi e letali dunque per il salmone. In questo caso questi laboratori sono stati predisposti per la ricerca sul coronavirus e a quanto pare stanno dando dei risultati sorprendenti. Correva l'anno 2000 quando l'arcipelago o meglio i salmoni delle isole Faroe furono colpiti da una forma virale molto forte denominata ISAB e che comportava anemia nell'animale, conducendolo dunque pian piano alla morte poiché di questo virus ancora tutt'oggi non si ha una cura. Questa grave minaccia all'economia del paese perché il salmone rappresenta come ho appena già detto un elemento fondamentale dell'economia delle isole Faroe e il governo non è rimasto a guardare ed ha investito in centi somme di denaro nella costruzione di laboratori e nell'acquisto di apparecchiature sofisticate per appunto far fronte a questo problema. Oggi rivelandosi prodigioso anche per gli abitanti dell'isola che a quanto pare risultano essere immuni dal coronavirus. Vi ricordo di continuare a di seguirmi sul sito www.lanotteonline.it e di continuare a scrivermi all'indirizzo redazione.lanotte.gmail.com. Io vi aspetto in tanti, aspetto le segnalazioni, i vostri argomenti da poter trattare insieme e argomentare come sempre ogni martedì ed ogni venerdì qui nella rubrica L'Opinione. Grazie ancora e iscrivetevi al canale YouTube.